Ha salvato una bambina di tre anni che stava per cadere dal balcone. Elogio della polizia per l'agente Giovanni Ricca, assistente, capo, coordinatore in servizio presso il commissariato di Battipaglia. Il capo della polizia ha espresso il suo compiacimento al poliziotto per l'intervento effettuato lo scorso 14 luglio a Battipaglia. La piccola fu salvata da Giovanni Ricca, che sfondò la porta dell'abitazione e senza temporeggiare si precipitò verso la bambina, afferrandola ed evitando il peggio. In casa con la bambina c'era solo il padre, il straniero, che purtroppo dopo un'intensa giornata di lavoro tra i campi si era addormentato e non si era accorto di quanto stava accadendo. Ad accorgersi della bambina fu un gruppo di passanti. A segnalare il salvataggio del poliziotto è stata Fatia Shakir, vicepresidente della consulta per gli immigrati.